bene è a posto ragazzi la stream non vorrei dare tipo dei mega cuti non vorrei uccidere qualcuno è a posto ragazzi me lo dite in chat è vivo ma sono vivo perché non dovrei essere morto scusate tutto ok quindi bella ragazzi e ben ritrovati questo vi siamo al live stream del venerdì del venerdì finalmente su raft come promesso ragazzi in coppia come c'è saspax e gil marino ciao a tutti ragazzi oggi iniziamo la nostra avventura in mare in cooperativa per chi non conosce raft raft è un gioco survival dove tutto è ambientato su una zattera dove noi inizieremo su 4 scacchetti e mano a mano dovremo lanciare il nostro orpione per prendere oggetti mano a mano ampliare la nostra zattera probabilmente è un classico survival insomma tocca prendere oggetti tocca farmare tocca costruire il crafting e via di cento a coltivare insomma ragazzi un classico survival e volevo portare questa serie perché oltretutto che ci piace giocarlo ma ci ho voluto portare qualcosa che vada avanti nel tempo un qualcosa di easy di tranquillo di portare a giocare e divertirci insieme oltre a questo e in più vi ricordo ragazzi come sempre oltre che condividere al live classico anche ai vostri amici per far vedere questo gioco e farsi divertire insieme appuntamento domani per formula 1 2020 alle 10 e mezza del mattino quindi ragazzi domani andiamo avanti con la nostra carriera nel frattempo passiamo per il gioco a breve giro di saluti abbiate pazienza ciao giangino ciao marco riuscire il nostro orario a far fondare la zattera lo scopriremo in questo episodio speriamo di no speriamo di no ciao ghost ciao pifor ciao a te ciao jo ciao a te bella tutto a posto a posto ciao medico tutto bene te invece come va ciao a tutti ragazzi salve don matteo ho trovato un altro gioco per chi non ha ps oh dita le ho una paura che gioco è intanto creo un nuovo mondo come doveva mettere intanto come doveva mettere la difficoltà ti ricordi molto facile facciamo facile come è facile o normale si facile o normale o facile o normale iniziamo con facile per adesso anche perchè se ribecchiamo le secche come l'altra volta moriamo in due secondi oh a nome mondo crassolandia gli amici possono unirsi si e la password che però si vede la password a sti cazzo scusate ok vedi la password scrivila su discord me la mando tranquilli me la mando me la mando la metto su radio core va bene scritto come la metto spero di averla scritta bene soprattutto ah no ho sbagliato a scrivere ahahahahah così ok la seconda ahahahahah abbiate pazienza eh non me lo trovo al mondo però eh ancora devo crearlo cucciola ah ok perfetto ok adesso sta creando posso fare partire version lives poi io sono tesa ho paura degli squali no ho matizzato da Ark aiuto vedi che mo scivola tipo dal quadratino alzato c'è lo squalo sotto l'altra volta giocavamo io e Matte dai portatili ho tirato un urlo ho visto proprio le fauci dello squalo arrivare oltre a mangiarmi bruttissimo no Marco non ce lo siamo spoilerato il finale non l'abbiamo guardato quindi vedremo niente spoiler ciao mister ciao a te eccolo io lo vedo sta entrando ma ancora sta facendo loading poi oltretutto ti sta entrando senza sapere oh bene oh entro prima io come faremo noi a stare a stare in questo 4x4 praticamente ecco già ho failato ma dai ma mi ha fatto sparare in un barile che è già lontanissimo ma di che tipo carico io e ti spingo con no ma davvero ma dai ma non ci sto prendendo minimamente in tutto fammi levare la musica che già mi ha rotto le balle sempre uguali via oh basta stupida musica no poi c'è altissima ti stordisce si no no ma era bassa però dopo un po' era fastidiosa sempre la stessa che si ripete all'infinito ora adesso il nostro obiettivo ragazzi è praticamente di prendere tutti questi beni che non riuscirò mai a prendere quel maledetto barile e poi mano a mano ampliarci la nostra zatera con questo rampino prendiamo tutto con questo rampino poi darmi tirava che non mi ricordo no oddio ho lanciato cose no ho lanciato il rampino carichi col sinistro la forza che vuoi fare poi lasci esatto e metti indietro con sempre con il sinistro indietro ok c'è un pazzo di plastica eri già finito in acqua si ho lanciato tipo il rampino per sbaglio ok sicuramente come vedete qua c'è tutto l'elenco del crafting però è quello che possiamo craftare e mano a mano che scopriremo diversi nuovi progetti quindi blueprint attraverso com'è che si chiamava il tavolo il tavolo da lavoro mi sembrava la ricerca il tavolo da ricerca questo qua ragazzi potremo ampliare le cose da costruire quindi anche più potenziate ragazzi siete entrati? domanda oddio c'è la tata ok è veramente molto piccolo questo spazio dobbiamo ampliare al più presto oh un barile un barile un barile prendi 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 aiuto si c'è anche un finale c'è nella loro c'è una storia allora no vabbè così è veramente troppo triste fatemi mettere un po' di musica perché sono qui un minimo di accompagnamento un po' di musica non mi fa non mi fa tirare l'arpione? in che senso? eh non lo vedo invisibile come lo vedo invisibile? già portipagato così ma ce l'hai in mano? io te lo vedo e lo so me lo fa tirare ma non beh però mi guardo sotto i piedi mi guardo sotto i piedi per come ma te sei uno di quei produttori tipo di dei cubani a Cuba tipo che si mettono lì sul tavolino a fare i sigari esatto guarda che bellini ciao tata ciao guarda com'è fiera con la testa alta tipo lei è fierissima ecco già è arrivato lo squalo eh? dove? qui sotto già l'ho visto no comunque lo vedo bugato quindi non so se è meglio che qui te rientro va qui te rientro qui te rientro tanto avevi preso cose interessanti no no non sono buato scelta la zattera mossa intelligente guarda italian li trovi tutto su tutti sul disco tutti quelli che giocano a formula 1 quindi va tranquillo bastardo quel barile prendi prendi tata abbiamo bisogno allora l'hai preso immagino giusto? l'hai preso si la soddisfazione proprio allora intanto mi faccio una lancia di legno no non posso ah sì posso aspetta oh di quanto roba mi sta sfuggendo no devo fare la lancia di legno perché ho paura che lo squalo ci attacchi subito no non puoi così il gioco no non puoi no tu non puoi ok intanto mi faccio la lancia non si sa mai si sa mai così dai intanto lo mandiamo via ok a voi come state messe a stat? ma io ho posto per ora ok intanto prendiamo prendiamo all'inizio ragazzi è così è tutto un cerca un cerca oggetti passi tutto il tempo sulla zattera a portare gli oggetti sì sì lo sappiamo lo sappiamo prendi 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 cucciola oh abbiamo del cibo yeee cosa hai trovato? una roba il gabbiano già che viene a rompere le balle me l'hai detto ma non c'è manco da mangiare infatti siamo così poveri che non abbiamo manco da mangiare ancora adesso tiro giù il gabbiano sarei tu il nostro cibo no è gratis solo questo weekend mister poi dopo ritorna ritorna dopo a pagamento avete visto? uh è liro eh come facciamo per raccogliere cose aspetta eh aspetta che provo a craftare una palla una palla pagaia eh no mi manca la pasta ma io non so come mai continuo a non vedere il l'arpione plastica ma se te lo lanci verso qualcosa non te lo fa prendere? eh no più che altro non lo vedo ah io lo vedo che sei lanciato l'hai tirato tipo per terra non so perché adesso lo vedo adesso è partito bene guarda a te come mi frega la plastica non so dire chi di voi due perché siete uguali però stronzi ecco e il caso ci zingarelli di mare tipo i zingarelli oceanici hai visto che è partito adesso? eh io vuoi non lo so prova dai dai che lo vedo per terra tipo ma come? a me dici che l'ho lanciato in fondo vuoi magari è bagato da me la visuale oh guarda quanti barili sulla sinistra aspetta 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 che c'è la pagaia andiamo a averne l'isola ma così e tutti quei barili senti io la provo io la provo e così che mori no please c'è una scuola a sinistra ok voi cercate di mantenere la posizione odio ho sentito un grillo ah ma la roba è ferma è vero? ma perché? ah siamo solo noi che ci muoviamo la roba sono generalmente rimane ferma ok io sono sceso sull'isola si si io rimango sulla giaccia a colonizzare a colonizzare questa è la terra di gilmar mi sa che non ci arrivo sopra io ragazzi se si incredibile ho già detto che lo comprenderò lo comprerò e valalla e ci lo porteremo in stream assolutamente sto tirando su un po' di semi c'è anche un motivo se sto recuperando dissi ah i rosengera no io lo schifo i rosengera ci sono anche tipo di frutti sull'albero G dove? ah vediamo controllate la tazata che non ce ne va ah ok no c'è la tata che sta lì a pagagliare guarda che bellina allora io posso farmi ah non c'ho pietra la pietra chissà se riesco a trovarla qui in teoria possiamo andare anche sotto acqua e raccogliere quelle che sono praticamente i argilla, pietra, ferro da vicino alle isole ma matte come nuota uh qua c'è ferro ci sono scrap c'è da far parkour per parkour parkour su raft attenzione ciao drago è piena di fiori questa isola più che altro eh ma con i fiori non ci facciamo niente uh cos'è? cos'è interessante un di Gaccio è Giulua si uh il minerale è metallico ma non ci faremo niente fino adesso no ma ha attaccato lo squalo no 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 ok mi si è rotto anche la pioche madonna mio noooo noo help Ok, sono in vita Intanto Tata continua a prendere cose Guarda, guarda, sono anguglie giganti E vabbè Ma te sei bravissimo Già l'hai presa così, proprio? Sì, non so come lo prego Ma cosa serve l'ancora quando possiamo baggare la zattera direttamente sull'isola? L'ho messa sulla zattera, tipo No, però ragazzi qui bisogna assolutamente che iniziamo a trovare cibo Secondo me, perché sennò a breve potremmo morire tutti, tipo Cioè a breve, più là, altrimenti stanno bene, siamo in salute No, e vabbè, ma allora ce l'hai con me, ce l'ha Ma ce l'hai con me Cosa facciamo? Ripartiamo? Oh, bello, adesso mi va l'arpione, funziona C'è qualcuno a pietra? Eh, no Io ho un pezzo Hai un pezzo? Passa? Passa Citron? Sto guardando se c'è un'altra anguria, ma Quindi in teoria adesso Anguria l'ho presa io, eh È due di tre, non ci voglio credere Quindi i fiori li lascio giù, eh, non servono a niente Sì, sì, no, naturalmente non servono a niente I semini pure? Ah, i semi di cosa, semi? Eh, mi sa dei fiori Oddio, vattene squalo, sei impazzito a salire sull'isola così? Seme di anguria Te qua avevi già fatto tipo parkour, hai già guardato tutto quasi? Eh, sì Gli alberi qua su Eh, non me li fa prendere i frutti, provo a dirti Ma i frutti, ma non ce li hanno i frutti, perché? Per quello non te li fa prendere Ma ce li fa prendere? Ah, sì? Ah, boh Eh Per in teoria servirebbe Mh Servirebbe un'accetta Però non l'abbè Oh, quanta roba hai messo, madonna Tutti i semi Mi sono venuto i semi di anguria, però Bene Andiamo Ci siamo? Eh, sì Tutti quanti? Sì, sì, ci siamo In che senso ho bisogno di un micro? Un micro di cosa? La bellina Non vorrei dire, ma forse ci siamo incastrati Dici? Davvero? Aspetta Un po' incastrati alla settimana Aspetta La posso spingere? La posso spingere No Dai, non ci posso creare No, no, ci usciamo, ci usciamo Ci stiamo uscendo Io nel dubbio pesco Plop Eh sì, lancia l'arpione No, ho sbagliato Ci stiamo? Dai, sì, sì Dovremmo prendere la retta via Perché mi si sta muovendo Tipo l'esca Dove sta andando? Uh, ecco, bene Cosa ho preso? La riga cuda Ci sono tanti i barini di qua Ma tantissimi Oddio, cos'era? No, ho sbagliato Sono stupido C'è una struttura G parli quel barino L'hanno fatto sfuggire Eh, ci provo Ci serve Tanto l'ho ringrazio di video dell'hosting Benvenuti a tutti ragazzi Benvenuti Dai, l'ho preso Bene, bravo G Oh, c'è la zattara C'è la zattara Una patata ho preso Oh, bene Sì, qua Dobbiamo raggiungere quella zattara Senza meno La vedete? Sì Sì, pagaio Pagaio? Pagaio Sprechi energie, immagino Stanno bagagliando Eh, secondo me sì, sai Ma tanto meglio Ci sacrificherà per noi Bella maestro Vissuti La maestra Che è l'unica Che si merita I canoli siciliani Scrive Nino Maestra, sarei io? Sì Perché approvo 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 Uh, quanta roba la destra Momento giocatore Beh, vabbè Tra l'altro la vocazione Della vita Abbiamo un ruolo dietro Adesso allarghiamo Allarghiamo la zattara Raga Ci arriviamo Ci arriviamo Qui non è comfortable così Tipo un pezzettino per uno Un due per due In tre persone Dormiamo come i cavalli In piedi praticamente Ok G Devi essere pronto Dove G? Devi essere pronta a salire E prenda subito la cesta Vai, vai, vai Pronto? Salta Vai No Così era? Che fail Raga Cioè mi sono rincastrata Ragazzi Tutti F per G Per il suo bellissimo salto G Noi ce la stiamo andando Corri G Corri Corri G Corri G Lo squalo G Corri G Corri G Corri G Ok, vai, costruisci, allarghiamo Ah, hai finito, veramente Non c'è più la plastica Ok, anche io ho finito cosa? Come mi manca? Il legname Non c'è più legno, Sire Io ce l'ho, io ce l'ho il legname C'avete legna? Ok, vine Vine Di buttarli in acqua, Dio Ti immagino Ok Beh, dignitosa, dai Già più dignitosa così Ok, ora dovremmo in teoria iniziare a fare Cosa? Per l'acqua e per il cibo Che iniziamo ad essere in carenza Con cosa si fanno? Intanto cos'è il suo rumore di mare? Si sta un attimo alterando È palesemente alterato il mare Palesemente alterato Sì, ma se ando a capo io non ho la plastica E non ho più neanche il legno adesso Non c'è più plastica, Sire Plastica forse ne ho due, forse Non lo so, sai Qua ce n'è davanti però di plastica Proviamo a prendere Non so se c'è anche per Xbox Sai No, non credo Mi sa che è solo su PC Però ecco C'è, gira abbastanza bene Non è che Gira abbastanza bene Eh, adesso il mio portatile scaroccio, sì Ah, è vero, no Infatti Ligerissimo Però non so se è su PC Perché non so anche sicuro Che sia uscito ufficialmente ancora O sei in accesso No, sì, ormai sì È uscito Oh, una di plastica Guarda i barili Tanti barili Ci serviamo Eh sì, cazzo Siamo in tre Dai, come minimo Bene, ho preso la fogliolina E non ho preso il barile Bravo Matex Complimentoni Yeah Ci saranno un sacco di legna, raga Eh Cioè, non sappiamo che dobbiamo prendere E fare i retini Però Ancora siamo un po' E vabbè, guarda che bastardo il mare Maledetto Non ci arrivo Oh, barile Dai, l'ho preso No, di pochissimo E qui parte la gara Eh, non ci arrivo Yeah No, non ci arrivo Col barile l'antra Ah, copre le statistiche Eh, vabbè, sti cazzi, ragazzi Vabbè, stiamo morendo male Se volete saperlo Guarda, basta che vengono a prendere i barili Della parte mia, sti maledetti Eh, faccio un muro, faccio Allora, vediamo un po' Iniziamo a mettere Ehm Depuratore semplice Mi serve plastica Ok, devo prendere tipo questa Ne ho uno, se vuoi Ah, ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io Ok Quindi, depuratore semplice Tanto ragazzi, crafto io Mettiamo qua Pack E devo fare anche la tazza Che però mi serve 4 di plastica per la tazza Quindi devo aspettare Ne ho due, se vuoi Ok Ciao, Bito Vabbè, vabbè Quanta roba Quanta bondezza Tutto per noi Ehm Oh, un barile là Voi sentite Semplice Oh, posso fare la griglia semplice Aspettate Ok Non so se sentite quanto è concentrata Suspax In questo momento Non è vero perché mi manca la corda Nooo Quale da prendere Nooo Bastardo Sì Uh, un progetto Uh, bene Un ricevitore Un ricevitore Ah, salva lei Ah, salva lei, Lori Guarda, guarda Tiè, guarda Guarda qua Adesso prende a fuoco la zatta Eh, ma come faccio a capire quando tira la gifola Uh, vino Potrebbe essere sporcaccione come cosa Allora Yeah Ora, adesso dovrei avere abbastanza per fare la tazza Bene Ok Adesso prendo acqua E Messa l'acqua Ah, l'aria già messa Però non ci avevi messo le asce di legno Adesso cosa faccio con queste tazze No, poi lì non ce ne avevo Ma adesso una tazza Vabbè Eh, intanto ti devi bere Eh, c'è ragione anche te Eh, sì eh Oh, no, cosa ho fatto? Cosa è successo? Eh, ho smontato tutto Sì Ma, scusami Ecco, pensavo rimuovi La patata con No Gilmar smocca tutto No, non puoi Ma dovrebbe essere Mi sa, in sconto attualmente su Steam Provate a guardare Quanto cosa adesso No, non è più in sconto E finiva No, non ci sono arrivata Adesso quando Ah, cazzo che peccato Ma credo Io ho preso a 13 Il doppio tipo Ma forse anche meno, sai Forse un 17 Non lo so Non credo No Boh, secondo me sui 20 23 Davvero? Boh, dopo provo a guardare Guarda che mi voglio fregare Maledetto Gilmar E' stata Sara Fa Fa Come vuoi? Ma fatti Le lasci tu Facciatemi due cazzo Che si vuole fregare I barili degli altri Ok Io frego acqua Grazie Ok Pack E direi di ampliare Ancora un po' Ah, l'hai rimessa Bravo E certo Un barile qua davanti Prendi, prendi, prendi Ah, 20 euro costo Ok Eh, vedi 19 Non c'ho preso Ah, Mario Secondo me va a piovere Ho questa sensazione Ma era un po' in burraschino Sì, sì Un po' in cazzarello Anche le nuvole sopra Con le nuvole Com'è che si fa a bere qua? Eh, devi craftarti la tazza Poi ti avvicini Fai il tasto E E Praticamente Minimo di birra Ma stia zitto lei Lei pensa che sia facile Ma non è assolutamente facile La tazza sarebbe contenitore piccolo? Sì È l'unica È la cosa che sembra una tazza Fondamentalmente Così Bevi C'è che sembra che è una tazza Riversa Quindi mi avvicino con E La prendo, no? No, quella è acqua salata Oh, aspetta Vabbè, è tutto buono Non si fa distinzioni Assolutamente Devo aspettare che esce qua a destra Sì, esatto Mi si è rotto L'arpione lì Come si chiama? L'arpione Arpione Ora ti spieghi una ricetta cantina Gancio di plastica Crea Ma dai! Ma guarda che bastardo Quel pezzo di legno Che non si vuole far predere E piove Oh, e piove Avevamo predetto Ma io posso riempire la mia tazza Se piove Boh Oh, salve c'è la plastica Ok, altro barile preso Corda E' una pietra E' una pietra E' una pietra Ok Vediamo se posso Foccazzare qualcos'altro Vediamo il freno Ma io devi allargare un po' Perché? Ah, ora è un po' allargato Adesso però c'è la plastica Direi almeno un altro depuratore E E anche un'altra griglia Che poi Io qui ho De quattro ring Che già metterei a cuocere Perché le patate Le vorrei tenere Per coltilarle Vorrei che facciamo un ciclo infinito Di patate Eh, non sarebbe una brutta idea Ma Ci può fare un contenitore qualcosa? E' un casino A parte del colopor Un casino Allora, cosa ci vuole? Io mi faccio i cassimi E' talmente Come avevo detto Dunque, mi manca la plastica Non so se ce l'hai tu Ne ho tre Ah no Vattene via Dalla mia zattera Aspettiamo Aspettiamo La tazza è la cosa Che è una tazza Che precisino Eh, vabbè È vero C'ho l'immagine di una tazza Cosa devo dire? Eh, un Non so Un lama Eh, una tazza Chi vuole bere C'è l'acqua Io No, ho sbagliato Io Ok Io Non c'è la combo Di quanti prezzi Posso credere Ti ho versato l'acqua per terra No Sei pazzo Mi scrivo Mi scrivo F da sola adesso Mi scrivo F da sola Ok, qua mettiamo un altro Molto bene Acqua salata Mettiamo assi di legno Allora, c'è la mia Rapettina Ah, no, niente Ok, scusate No No Teniamole per coltivarle Magari peschiamo un po' Io non ce l'ho la canna Pesca, vediamo No, lo squalo non lo pesca Lo squalo ci attacca E ci rompe la balia Però possiamo ucciderlo Con le lance In teoria Tanto ragazzi Benvenuti tutti in live Ciao Word Daddy Buonasera a te Piuttosto Quelli che prima gareggiavano Com'è andata la gara? No, 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 no No, c'è lo squalo C'è lo squalo No, 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 no No, lasciami stare Lasciami stare Oddio Tranquilli Mi si fa capire quanto è cotta la Cosa? La ringera Eh, diventa marrone Eh, prima la Eccola, mi sa Molto Allora Uno che fa l'alberghiero Come cuoco E dice Ma come si fa a capire Come la ringera Quando è cotta? Prima ho messo sulla patata E rimaneva sempre lo stesso colore No, e si apriva Ci fai caso Eh, ma non lo sapeva Cioè Gì, ma fai l'alberghiero Dovresti sapere O sei 25 stelle Michelin Ma Michelin come le gomme Ah, non sapevo che Raft Fosse l'apoteosi di R.A.S. Come no? Sblocchi anche le ricette Su Raft T'ha fatto un manzo Bene Sono arrivata Vabbè, ciao Ah, prendiamo la plastica Per la Eh, sì, sì No, ci serve tutto ragazzi Quello che riusciamo a prendere è tutto No, per la cassettina tipo Da morto? Già la vedi così subito? Per non saperne leggere Né scrivere le reti Cosa ci vuole per fare le reti? Eh, non mi ricordo Cosa serve per le reti? Non so neanche dove sono Nessun Voglio il cibo come è stato messo? Ah, no, dobbiamo scoprirle Mi sa Un quarto Ah, è vero Perché dobbiamo fare il banco No, no Vabbè, il gabbiano sti cazzi Non c'è ben niente Gassi di legno Gassi di legno Ha avuto la macchina davvero Adesso ragazzi Sto weekend Organizziamo una garettina Dai Ci voglio lasciare anche io Siete bastardi Giocate sempre con di lavoro Voi siete tutti dei nulla facenti? Bastardi Cazzo ridi te Dai, 1v1 sulla zappa Dai, dai Fai 1v1 Dai, pezzo di me Dai, cosa fai? Pezzo di me È così che ne rimase una Esatto Lo scuolo fa l'arbitro Ok Ah, poi scusa Fino a prima di inciurliva La musica Giesso non c'è più Sparita nel nulla Ma neanche l'ho levata Ah, ok Non posso premere Sono lanciato il rampino Io sono pieno di legno Comunque Il carro è entrato Siete a pagare Prima la KDF1 Poi il comando sul disco Adesso è la gamba Michelin Ah, te l'ho dato Ok, no C'è l'altro Vabbè sti cazzi Aspetta Allora Ma poi adesso Adesso poi ragazzi Ci organizziamo Quando sono le gare Di guardare Anchissimi su disco C'è 5 di plastica Se vuoi Guarda, guarda Bastardo Come ci prova Com'è che si giravano Gli oggetti Bella domanda Mi sa con R Mi faceva fare prima Non vorrei dire una cavolata Sì, sì, sì Bravo Yeah Yeah Fuck yeah E' subito aumento Bitch Non possiamo scoprire niente Con la corda Sicuro Ne ho di corda No Non era la corda Non era la corda I scrub metallici Per caso I pezzi di metallo Ah, li ho consumati tutti Quindi Eh, ne ho uno Mi sa io Aspetta Classica Dove venire a vedere Vai, vai tu Vai tu Ti spieghi anche come funziona Ora, come funziona Per sbloccare le nuove cose Ragazzi Bisogna craftare questo Che è il tavolo Di ricerca Tavolo da ricerca Questo qua Da qui ragazzi Come funziona Si aprirà Il nostro inventario Ok E tutto questo Mega elenco di cose Da craftare Per ricercare le cose Per sbloccare il blueprint Oltretutto che possiamo trovare Diversi progetti Che di solito sono parlantiene così Ma basterà semplicemente Inserire un oggetto Cliccare ricerca Ne consumerà uno E qua avremo Sbloccato Tutto quello che ci serve Per la ricerca Molto easy Ad esempio Mettiamo il legname E qua possiamo Apprendere il tavolo Mettendo i vari oggetti Che fanno parte Per quel crafting Sblocchiamo cose Tipo questo Le corde Ah vedi Ah perché ci manca Il chiodo Ecco perché Ci servono i chiodi Io faccio così Apprendi Apprendi Guarda te Quanto sono bastardi Barini Che si mettono Tipo due centimetri Di distanza Tanto per non farli prendere Maledetti barili Hanno rovinato i barili I barili che hanno rovinato I barili Maledetti barili Stupidi barili Ah io posso fare tre chiodi Se volete Oh farne uno Eh tre ne posso fare Con due rottami Ah aspetta Che io mi sa di rottami C'è no Aspetta Conviene Aspetta Faccio i giti I teli quelli Ok 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 Sì conviene Perché ci si fa Le riti Chiodo Ok Poi il chiodo Che me l'ha messo Esattamente qui Lo andiamo a mettere qua Ricerca E guarda Cosa serve il rottino? Prima di te Gli oggetti Che ti passano davanti Si fermano nel retino Senza che ti usi il rampino Praticamente 8 di corda Due chiodi E un asco Allora io c'ho un sacco di Foglie Con cui posso fare le corde Volendo Marco È scassato la minchia Posso dirlo? Ecco Allora Corda Quante ne servono Di corde Sono persone cattivissime Sono persone cattivissime Ah ma c'era una zattera Sulla sinistra Vabbè ormai È distantissima Non riuscivo mai più a prenderla No Ma è veramente molto distante Ma tanto Non poco Tantissimo G Ti lascio le corde Dove sono? Per terra La creo quindi Allora Questa Ah se volete C'è l'acqua Se dovete bere Mi sono appena mangiata L'anguria Scusate No Eh vabbè Almeno era buona Era buona? Molto Molto Ma anche l'acqua Che gioia E noi dovremmo morire Ah mi mancano tre di plastica Tre di plastica C'è dovrei avere Aspetta Uno Due Tre Vai Ok Faccio il contenuto O c'è anche un'isola eh davanti Se ci vogliamo andare Eh quasi quasi Sapete Perché così prendiamo anche tutti i barili E in più andiamo a fare magari un po' di legname Che quello forse magari ci manca Quanto è bastardo sto barile Ah il contenitore Eccolo qua Metto le foglie Allora appagaio La corda Ok ho messo delle cose nel contenitore Prendete i barili raga Dove sono? Sto parlando Ci proviamo La zata è diventata velocissima Eh sto pagagliando E infatti è più difficile anche prendere i barili Preso Preso anche io Bene Ah si La manetta Oh no 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 Vattene 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 Posso picchiare coi pugni no? No Oh no Riparo Riparo cosa? Tra un po' la pagaglia si rompe E noi non avremo modo di farne un'altra Con cosa? Ah no Non si può Perché? No dai ma No Lancio della fede Quanto custa la pagaglia? Eh vabbè dai era lì Ma a me che ci sono Ci manca la plastica Non so se matta ne a sei Ne potremmo fare un'altra Io ce l'ho la plastica Ce l'ho ce l'ho Ho craftato io la pagaglia Ho craftato io Continuate a fare degli oggetti Prendete i barili qua sulla sinistra Eh ci stani Patate Guarda io sono corretto Al massimo Se devo Mandare tutti a incacciare Lo faccio all'ultimo L'ultimo gioco Ma come mi ha fregato subito il barile Ok hai preso un altro No No Svolto Riuscire a incastrare Oddio Un'anguria Devo continuare a pagagliare Perché mi sta portando via la corrente Un'ananas Veloci Non so quanto riuscirò a resistere Ma come? Mi sta portando via la corrente Oh ci sono i rottami da sotto Dove? Vado a prenderli Vado a prenderli Sott'acqua Vado Ma siete malediti Perché siete che io vado incontro Con che tasso si prendono Adesso d'acqua Oddio Oddio Lo scuolo Ho paura Aiuto Mi è indietro Aiuto Com'è che si prendono gli oggetti Da sotto Con il gancio Col sinistro Come se lanciassi Solo che praticamente Vai ritento Vai ritento la fortuna Aiuto Vedo lo scuolo lì davanti a me Sto pagagliando Ce lo farò Ce lo farò Aiuto Ma ammazza Sei morto C'è morto Però un rottame l'ho preso Ma perché bocci sono bastardi Sono bastardi Sara occhio che arriva lo squalo No No non ci gioco Aiuto Aiuto Mi sono preso una mazzata Però ragazzi ho trovato la sabbia Bene Quella ci serve La sabbia E Quella ci serve Argilla Buono Riusci a incastrare la zattera Assolutamente no Argilla Ragazzi vi consigliare di venire sulla zattera Mi si sta rompendo la pagaia Se vuoi Venite no ragazzi Mi si rompe la pagaia Io sono andata su Ah ok Beh sti cazzi Sono tutti qui A cazzo di idemo Allora tu te che fatico per niente E senti come la mangiano Eh ci siamo presi una mazzata testa Io Sara Ma qua guardali proprio Mi vogliono far morire tutti i costi Mi do metri il pesciolino Oh Eh già che ci conviene pescare un po' Perché al cibo Scarsiggiamoli E com'è Un zingariddu Proprio Un zingariddu No infatti adesso Mi metto un po' a pescare Ho già la carne accraftata Metto lì un po' Ok Aspè che metto le patate nella cesta Amici addio Ecco la casa blu Questa zattera è troppo piccola per tutti i tre Ecco Quindi Matte scendi Ma cosa venite da me? Un buon compromesso Cioè sto facendo tutto Mi sacrifico anche E più devo anche scendere dalla mia zatta No Maggia ti vuole tirare una martellata Abbiamo un problema Cioè non ho abbastanza materiali per fare anche questo lato E adesso mi triggerò a vedere Mi triggerò a vedere quel Legno Mi serve tutto E cosa però? Che materiale? Tipo sei riuscita ad aggiungere Mi serve tutto 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 Qualsiasi cosa mi serve Continuo a pescare Vabbè intanto pesco finché non mi si rompe la canna da pesca Ecco tipo adesso Mangio Un buono Ho trovato una barbabietro Ragazzi bevete così ne mettiamo ancora Allora fatemi intanto vedere Io direi di iniziare anche a coltivare quasi quasi Quante patate abbiamo? Oh Dio Domanda Gli hanno messe due Aspetta che Una Ne abbiamo tre Ne abbiamo tre Ok Tre patate perfette Allora mettiamo qua Ah io ne ho cinque poi quindi dove è sti cazzi Ok C'è acqua No No abbiamo messo adesso Io sto molto morendo di fame Eh ma tutti mi sa Guarda c'è un pesce cotto e una ringa Ma guardalo subito Madonna mia Cioè ma manco messi giù Era lì che aspettava proprio camperino Che mettesse giù le patate Lezzo Mi servono tre corde Ok Bene Le corde tra nella cesta mi sa Allora Eh Bisogna che mettiamo anche un Ah sta morendo di fame C'è tipo lo stomaco che brontola E vedo E vedo Fuscato Tra l'altro Quasi cosa No Madonna Cosa fa Cosa fa Ammazzalo Ammazzalo Ciò fa Meglio Le cosciettine di gabbiano Eh c'è tipo la barra che Lompeggiano A fine Se non ti sei nutrito Mangia le rappe Anche Se stai morendo Ma non credo di star così male C'è ancora un 10% E' stata una lotta continua Contro l'isola Asse di legno Veloce cuociti Devi cuocere Stubbito pesce Girman è malato C'è bisogno di sopprimerlo Povero Girman Povero Girman Vedi te se riscende il gabbiano Crudo me lo mangio E' cotto E' cotto Vai Mangia Ah sopravvivi Stupido personaggio Oh raga un barile Dove Eh non ci arrivo mi sa Esatto Alstack sopprimiamo Girman Tra poco mi si rompe il Si vuole raffare Si si ho visto Eh dai Barile Eh ma è stato bravissimo No c'è caduto Addio G è stato bello Oh no No Cos'è oh Squalo Arrivo Eh vabbè ce l'ha rotto Maledetto Ti cazzi Io lo rifaccio No non c'era Cosa ci serve per le reti Cosa ci serve per le reti Scusatemi Corde Corde Vediamo cosa posso fare Io ne ho due Mi sa che nella cesta Ce n'è un po' Allora Ah però mi mancano assi di legni Mi mancano C'è un assi di legno Io ne ho nove Undici Ne metto nella cesta Ok Avete fatto la cesta? Bene Vai Ti metto anche questa Eh dov'è che l'hai scritto Adri Mi sono perso Una fa la luce Barilli davanti a noi Oh Gimma viene a mangiare C'è No no Sono a posto io Se vuoi mangiare te Ok Ma il cabbino Non si può ammazzare Certo Con la lancia qua E allora mo Campero il Un campero Sì sì Sono fatti i suoi Ok uno Ok due reti messe Due reti messe Ah quindi questa è la roba Che ci finisce dentro Possiamo Rimane lì esatto Non c'è l'altro Che non va in galera Gabbia no Vabbè Adri bannato Puoi bannarlo oggi Ad Adri Dopo questo banno Cioè questa qui È ai livelli Ok Delle barzellette del cucciolone È agli stessi livelli Devi vergognarti Domani Cioè quando gareggiamo La prossima parte ultima Per questo E vabbè dai Ci va bene No No Ok Tutto bene Tranquilli State lì fermi Non aiutatemi Se cade in acqua Non aiutatemi Per carità di Dio Rimettete lì Non mancherebbe Vabbè il codice dei pirati Un pirata lasciato indietro È un pirata morto No che veramente Chi si è mangiato il mio sgombro Quando finisci in acqua Chi si è mangiato il mio sgombro Tata 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 Non cambia il discorso È un barile Ma era una rapa A te ti sbagli Non era un pesce Dov'è il mio sgombro? Avevo capito che c'hai fame Ma era una rapa Ma poi perché Sei andata a sinistra E stai lanciando sulla destra Per raccogliere cose Tata È tutto questo Perché sto cercando di Diorare Però di là c'era più roba Allora Tocca a mangi No ho mangiato il pesce crudo Mi sono fatto malissimo È l'alba Tocca a mangiare una rapa Quel bellissimo Ah per perché? Ma il retino si consuma? Eh boh Il retino no Il retino no Con quel che costa Cioè te lo rompe fondamentalmente Quel bastardo dello squalo Eh allora È un problema Ah beh noi Se ci abbia le lance Squalo non fa un cazzo Fai letteralmente E c'è che mi faccia Una canna da pesca Per rimanere a tema A tema Gilmar Esatto Uh guardate i barili Prendi prendi Nel mare di Rimi Forse Può essere No è troppo alto Per essere Rimi Yeee Barile Yeee Ok No l'abbiamo mancato Penso che ancora si sta cuocendo Minchia Guardalo Guardalo come gira Io lo so che adesso attaccherà a breve A breve attaccherà Ho già raccogliato le patate Bene Molto bene Li mettiamo Tac Tac E via Doviamo i trassi Eh era cotto Va bene Avvisa se attacca Che non Cioè Bevo E rimetto Allora vediamo cosa manca per le corde Non c'ho preso Retiro Viene o quattro Asse Corde Io ne ho due Ci starebbe Una bella Zuppa di rape Si può far più avanti Non più No Tengo a cantarli I chiodi Com'è che si persa Ah non c'erano io quattro C'erano io quattro Ok Passatemi tutte cose Passatemi cose Eh Aspetta Vai Eh io sto Eh praticamente Devi Cos'è stato E praticamente Devi lanciare Quando vedi che va giù Il galleggiante Tipo il pesciolino Tiri su Tiri su Premi il tasto sinistro No perché Rilampeggia di nuovo C'è un barile qua Ma c'è la patata cotta qua G Vienla a prendere Ok O c'è la zattara davanti Non c'è nessun'altra Un po' di legname Altro legname Riempiamo qua Tra l'altro sto trovando Un botto di barbabietola Eh bella Che è la missione Della cassa Eh posso andare io Bene quando ragazzi Siete un uomo del canale Followate Followate ragazzi Iscrivetevi per altre live Come questa Cerchiamo di portarle Una volta a settimana Questa sera Vi piace piuttosto Piuttosto Adesso C'è È all'inizio Quindi All'inizio è un po' Un po' Ripetitivo Poi dopo inizia ad essere divertente È multiplayer Sì ma tra di noi C'è chiuso Non ci sono altri player in giro Guarda qua Cosa che prende I nostri belleriti Ok sono pronto Ci sono Ci sono Sono convinto Però sta andando storta La zattera Abbiamo la pagagna Possiamo attraccare No Ecco Devemo fare Lo provo Guarda che il barile Oh Oh bello Veloce Cosa Prututo Aiuto Aiuto Ok Ci ha dato Delle Uh Cosa interessante Da ricerca Se qualcuno vuole prendere La patata cotta Almeno metto Il pesce Prendo Ma prendi Ah vai 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 No vai vai Io c'ho Io c'ho metà C'ho più di metà Ciao con lui Ciao con lui Sera a te Sera a Marte Sera a te Sera a te Oddio Oddio Si è triggerato Oddio Un pezzo di legno È morto È diventato Un pezzo Oh I cazzi Cos'è No Stasera si mangia gabbiano Vai Coglie raga Ah spettacolo Si è triggerato L'ancora monouso Si 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 Però ci serve Della pietra Cosa Per cosa Per l'ancora monouso Eh ma conviene farla Qua c'è un pesce Di chi è il pesce Eh boh chi vuole Se sarà Eh però io sono già basso No guardate Io sono a metà Quindi è posto Vuoi che schifate Tante le labie Metti le cosciette Di gabbiano Vai Eccole là Che buone Che le patate raga Eh mi sa che conviene Fare un altro forno Eh facciamole un altro C'è vede i materiali Vediamo Facciamo due Facciamo due Casi contemporanea E' la prima C'erano tre corde Sì io ti ammetto Tutto nella cesta Se vuoi farlo No guarda ce l'ho la roba Quindi ti enti pure la roba Ah io le corde le ho finite C'è ce l'ho io Faccio io Faccio io allora Eh No ma ce l'ho fatta Fermi Fermi Ok scusi Vai che metto su Metto su un'altra coscia Sei palesemente alterata Fermi tutti Infatti Madonna Oh altro gabbiano Ammazzami Oh no Mi dai colpiti Meggi Aiuto Un assassino Un assassino Sua zattera Mi ha tirato un'arancia Nell'orecchio Per sbaglio Dove l'olio Oh ragazzi Qua sono un sacco di risorse Comunque Il tizio è arrivato A vendicare il parente Ma non ha capito Ma ve la dopo ragazzi Con la calma Con la calma Ci arriviamo tutto Adesso fateci un attimo Fare un po' di materiali Allarghiamola un po' St'azzattera Se no C'è acqua Che ti vuole Fine Io che acqua Io mi devo mangiare Una coscia Per una bozzia Se famo una te Una io Mi serve un bianco Famo una te Una io Assentilo Vediamo le piume Cosa servono Tanto G È partito Sulla chat La petizione Per abbandonarti Da qualche parte Eh immaginavo Era buono Un pezzo di pane Ma che caro E vabbè Quanta mondezza Vai Sara Se vuoi è cotta Arriva Adria Ha detto subito Che ha la firma Ma guardalo Oh basta Ammazziamo anche qua Ah ma sono due È una combutta Eh hanno visto Il fratello Morire Già Già nella mia pancia Sinceramente Già digerito Già cagato Già digerito Cagato infatti Ok l'acqua Questa me la bevo La rimettiamo Qua se non ci mettete La legna La rapa Non ci cuoce Sembra giusto È anche aggressivo Oltre che è malato Oh Arrivano i barili Sulla destra Tutti i vostri Sì Allora Vediamo un po' Quanti materiali C'ho Riuscirò a fare Altre reti Che queste qua Ci servono Bene Io ho tante foglie Se vuoi Lo sento Oh Un pezzo di legno Bene Un altro gabbiano Bene Cosciettine di gabbiano In arrivo Yeah Oh dove vai Maledette Allora Dicevamo Ok Quindi abbiamo due Che le piazzo Esattamente Una qua E una qua Bene E volevi Ma che faccia Che versi ha fatto Pigro eh Pigro Tre volte L'ho dovuto Attaccare No Dove te ne vai Pezzo di plastica Che c'è Una barbabietra E una patata cotta Io non dico Di no Una barbabietra Io voglio Alleanza Su formule 2020 Con Zilva Per fare Manza D'adri Il cancio Assemblato Cos'è No che poi ragazzi Avrei un progettino Per formule 2020 Ma ci faccio Un video Per i sub Ci farò Un video Per i sub Non lo spiegherò Bene No Madonna Maledetto Stupidi gabbiani Madonna Che vieni a rompere Le balle Ma c'ha Della Si usura Lo spaventa Passeri Eh si Eh si Sì Si si E non ci può neanche riparare Trocca rifare un altro E anche altro Oltre che malato aggressivo Eh chissà Chi è sub Vedrà il video Poi lo saprà Gli altri dovranno aspettare Un po' di più Vedrete Vedrete Già ho avuto Delle belle idee Ho delle belle idee Da fare Non ci propone più Né terra Né nulla In giro No Non c'è più niente È la fine del mondo Ringrazia che c'è ancora Roba in mare Perché nell'altra partita Mia di matte Non c'era più niente È vero Anche poi pagai Io c'ho ancora Pagai Potremmo fare una vela Mi sa Volendo Sì ma non so cosa serve Sai Le foglie ho visto Mi sa Provedere E' che è abbastanza Costosa Da quel che ho visto Io ho 22 foglie Raga Io ne ho 20 È ricchissima lei Allora Vediamo la vela Ma la vela è necessaria Attualmente Cioè Quella è la mia La mia vera domanda Boh Non saprei Ma io investirei più Su una Un'ancora Ora Io investirei Innanzitutto più su Intanto vi faccio Un'ancora monouso In caso becchiamo un'isola Così Ce l'abbiamo già pronta E ci fermiamo E Poi Ragazzi Perché dovremmo iniziare A formare un po' Un po' di pesci Ragazzi Eh lo sto facendo Pesci E dovremmo iniziare A guardare Nei fondali marini Per Altri materiali Ciao Dov'è Eh qua sotto Una bottiglia Con candera Quella la troviamo sempre Non sappiamo mai Grazie 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 Guardettino Pezzi di legno È una minaccia Eh ma ancora Ma dai ma guarda Mi ha bloccato Si è messo in combusta Qualcosa Dell'acqua Maledetto E io bevo Per dimenticare Qua c'è la coscietta Di pollo cotta Che vuole Ah io sono Oltre la metà Quindi Prego G Perché di solito Muori Sei malato Ti parlo dietro Ti parlo dietro Io sono Vegetoriano Ma non direi Però Se Pinsi Crasso Crasso Se Pinsi Questo Cos'è Sto rumore No Lo squalo G A me No Me Io A me Ma non Se ne va Guarda Ma Rutto Ma Rutto La zattera E il riparo Sti cazzi Abbiano Mi sento Troppo No Sto giro Lo stendo Si arriva Uè pieno di roba Qua davanti Ah ma guarda Non manco io C'ho il volante Io gioco col pad Non è un problema Così Questo Cos'è Questo rumore Si gira E c'è lo squalo Che mangia via Metà casa Praticamente Più meno così Che funziona Ah io devo bere Sentito Come Ho provato di bere Che cazzo Mi è venuta sete davvero Dai ragazzi Prendete Formula 1 Lo trovate anche su Instant Gaming Più siamo Più ci divertiamo Sì vabbè Per conto che dopo Comunque le gare Sono limitate a 22 persone Eh però Dai siamo già Una decina Che poi voi che avete giocato Cosa usate Le auto vostre Spero Facciamo un po' Un po' Prevalentemente Le auto nostre Beh si usano le proprie auto Dai Sennò scusa Che gusto c'è Siamo già in una decina Sai se arriviamo Sulla quindicina Così Sarebbe sì Ah c'è Uno sgombro Ciao Totino Cosa ci guardiamo Stasera Totino Proponi Proponi Tanto siamo tutti qui A sto punto Io direi veramente Quello del delitto Ci sta Come filmò Quello anche Forrest Gump Come aveva detto Toto Eh perché è una bella scelta Anche perché io non l'ho mai visto Quindi mi istruireste Hai visto Forrest Gump? No Eh allora Te non l'hai mai visto? No Davvero Cos'è quella cosa che hai in mano? Cos'è? Ma cos'è? È un fucile Ma oddio C'è un pesce Ma non lo producerò Oh mio dio Aiuto Non me lo minacci con quel pesce Non mi minacci Ma fai conto che non me lo fa mettere? No perché c'è una grena quella più grossa Ma cazzo ma lo tieni come un fucile Lo tieni praticamente Ma qui non ci sta C'è dello sgombro cotto se volete Nella cesta Eh ma è da gusto Raft Anzi me lo mangio io perché ho poca roba Ma vedo per la griglia grossa Un buon investimento Oh facciamo così Stasera guardiamo Forrest Gump Alla serata cinema Facciamo così Visto che Gino l'ha visto perché È ciofane Perché sono giovane Non puoi minacciare così Nino Serve il progetto per la griglia Ciao te sfondo Buona serata Buona serata Quindi Ma il pesce va in C'è un progetto dentro la scatola Che cos'è? Eh no è un coso per Un ricettore radio Oh la griglia è migliorata Ci serve il lingotto di metallo Però cazzo Lingotto di metallo Tocca fare la fucina E tocca fare Cioè è un po' lunga Non è così immediata Va male se rimane là Eh ma più che altro Dovamo fare la fucina Per fare la fucina Eh ci vuole il mattone secco Mattone Per il mattone secco Cosa ci vuole? Fammi vedere che ci vuole un po' Sabbia Sabbia E anche argilla Un po' ce ne abbiamo? Un po' ne abbiamo Potremmo farla Da me la sabbia Avanti su Trovassimo un'isola L'isola che non c'è Ma ce l'abbiamola ancora monousa? Sì L'ho craftata Ce l'ho io nell'inventario Eh sì per dopo Intendo Faremo tutto Faremo tutto Nino Con la calma Con la calma facciamo ragazzi Senza fretta Dobbiamo fare un sacco di materiali Quando abbiamo Secondo me Una cosa sicura Già anche a livello di cibo E vi dicendo Adri Non si dice Sì Sei un porcellino Sei un porcellino Adri Ti esce la cosa Quando puoi raccogliere le patate Sì sì ti esce Ti esce Oh eccoli i gabbiani Guarda è qui sopra che vola E Allora Oh iniziamo a coltivare ancora più patate Facciamo un'altra cosa di coltivazione Secondo me Quasi quasi Per me Come fare un altro Faccio un po' di corda Ne mettiamo su un altro Tante le patate Probabilmente ne abbiamo Facciamo due così Poi Patate A non finire Tanto l'acqua ne abbiamo Quindi sti cazzi Questo qua Questo qua Asso di legno Bevo Riempio E rimetto Patata cotta Tanto metto anche una cosciettina di Di gabbiano E qua ci mettiamo Ma sapete cosa? Cosa? O allarghiamo e facciamo più reti O le mettiamo di lato Allarghiamo Eh di lato secondo me Per quanto andiamo in un verso Oh c'è un'isola davanti eh A sinistra è vero A destra O a sinistra No a sinistra Se ne è una Ah Quale è una zattera a destra Mi sa Ah Sei sicuro? Ah ci sono due Oh il gabbiano Il gabbiano Meno Bastardo Oh Bene No ma davvero Ma li sento da casa Io siccome non è che abito distante dal mare Mi sento da casa che gira sopra a casa mia Non sono così vicino al mare Però gira sopra a casa mia Ciao a te Italian Ciao Italian Boy Però siete bene alla grande Come sempre Come facciamo per l'isola? Cioè riusciamo a girare? Io o facciamo più di una pagaia Vai Facciamo più di una pagaia Mi mancano Ok mi si è rotta Ne posso farci un'altra La vila La pagaia Corda Ok mi ci scappa In realtà ragazzi piazza anche l'ancora Così almeno dopo quando è il momento No niente io non ho la corda Non posso Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho tutto io Ti do la mano tata Quasi Quasi toto Però non ai loro livelli Perché con i capiari un po' ci puoi parlare I cavalli no Sono proprio stronzi Sono più difficili anche da abbattere Mi mancano il cavallo su raft Lo stadio non è distante Signor Lori non è distante Non distantissimo Mi dirà così Aspetta che se ci incastriamo bene bene non c'è bisogno manco dell'ancora Cos'è sto secco Così sto secco Ma è sempre meglio Così come conviene metterla Tata sai Ops ho dato una pallata allo squalo E' così E' il secchio Il secchio che avete messo E' l'ancora Quello è l'ancora Vai G Tira l'ancora La Dov'è? Oh lo squalo Lo squalo Lo squalo G Madonna G che rischia la vita Di nuovo Oltretutto Di nuovo Ma vogliamo fare Un'eschezza per gli squali Guarda intanto io Butto giù un po' di alberi Così facciamo un po' di asso C'abbiamo anche nuci di cocco Che possiamo anche piantare Che potremmo pensare anche di fare Dopo anche le cose Un'ananas Oddio 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 Lo squalo Lo squalo Dov'è? Il fer bianco No Anguria Bene Fighissimo l'ananas Guarda mi prende in tanto Sto barile Visto che li fermo Che mi guarda No Il gioco ha detto no Non me lo permette Ok ho messo l'ananas nella cesta Ciao drago A domani Bitto lo certo Sì Madonna Nell'animo No Visto i tempi Vacanze Direi proprio di no Ragazzi Direi proprio di no Non è proprio il caso Foglia di palma Ok Mango Ragazzi qualcuno viene a raccogliere Il mango che mi è volato Che sono un alimentare pieno O un mango Non so se c'è qualcosa Ho trovato l'ananas Dovrebbe essere qui da qualche parte Gia Il mango Ma Sotto è andato Non so Di sabbia E uno d'argilla Bene Molto bene E' riuscita a fare il mattoncino? E' data Io lo devo fare Sì Io sto morendo Ecco Bene Di cosa stai morendo? Boh l'ananas non lo trovo Di paura Perché Lo squalo mi ha quasi ucciso Fallo di data No io sto morendo Ok Eh no Non lo trovo L'ananas Eh vabbè Non importa Non capisco L'ho andato Sei innocente Come scar del re leone Vabbè ma allora Lo squalo ce l'ha con me Dillo Dillo Eh Dillo Discriminazione No non voglio i fiori Non voglio i fiori gialli Per carità di dio Qualcuno butti via quel fiore Grazie Oh Cazzo vuole sto fiore Di merda Il mare si è incazzato Gli ho offeso il fiore Scusa Non volevo I Ma che bella zatterina Che sta venendo su piano piano Ok Eh vabbè Sei incazzatissimo Gli ho offeso il fiore Sei incazzatissimo Ok Bene Dobbiamo fare materiale qui intorno Sicché Ora intanto Magari te g pesca Così facciamo anche l'esca Così dopo ci buttiamo E Affarmiamo un po' Se c'è di sabbia Argilla Roba del genere No Ah sia Io intanto me la rischio qua Ok Brutta idea Brutta idea Brutta idea Brutta idea Brutta idea Oh ma qui c'è uno sgombro Cotto Potrebbe partire la vendetta Però guarda come va a difendere il suo pesce Guardatela Come va a difendere il suo pesce Ma parli con me? Eri tu sgombro tata? No Ah è di Silmar Guarda guarda No no L'ho messo là a caso Sì sì Ma è prevenuto eh Prevenuto Qui finisce alla matta Te lo dico subito Sei prevenuto Domani mattina ragazzi Ore 10.30 Live su Formula 1 2020 Andiamo avanti sulla campagna Ma sono un idiota Ora sei riuscita a fare un po' di PCG? Sì Ne ho Lo sgombro là se vuoi Poi c'è quello sul No ci serve O la ringa cruda O il pampo crudo Adesso provo a vedere Mi serve acqua prima Se no muoio Ok allora magari mi faccio diventata la canna da pesca Apre bolt Vedi sti cazzi No non ho abbastanza corde Fa la canna da pesca Ok Metto giù Bene E via Cioè 8 corde per la canna da pesca Ma qua somma Eh tantissimo E vabbè comunque Ci sta di più dai Il pampo ce l'ho Il pampo ce l'ho Capito? Ok Sgombro Un sgombro Un salmone c'è Mi pare sto facendo cose strane Ah il salmone è quello grosso Verso qua Quello che ho preso qui No mi è volato un pampo Vuoi venirla a prendere? Guarda qui sulla scatolina Vabbè raga visto che snobbate lo sgombro me lo prendo io Ciao Come quello scorso Guarda sentilo Quanto rosichi Di quanto rosichi Sai com'è Ho pescato un bellissimo pesce Ok due pampo sono nella scatola Qua nella cesta Coscia infinita Ma dopo pianto l'ananas Si può piantare qua credo Eh sì Ma mi sa che ti serve il coso più grande Per farlo Io Mio Ok ce l'abbiamo risca? Riusciamo a farla? Due pampo Non so quanto rava serve Cos'è la siamo andata in Ria? Lory io ti banno Se fai una cosa del genere Vengo a sapere Io ti banno Se sei provato a fare una roba del genere Mi banno tutti E allora Ti serve Premente Un pampo O due pampi Due pampini tipo Due cazzo le vedevlesche Eccolo qua Un pampo E un ar... No aringa cruda O pampo crudo E due corde Ok ci sono tre pampi Oh bene Dove sono? Nella scatola Quale? Quella di destra Non ci sono i pampi Aspetta In questa Imbecilla Gli ha messi ad... Guarda non ci sono ancora Come no? Si No Non li vedo allora io Questo Oh no lo scuolo Mi ha rotto le palle però Uccidiamolo 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 Aia Guarda Sara mi sa che mi ha dato una bastonata Scusate Eccolo qua C'è pampi crudini Adesso c'è gli ossibili Però non ho le corde Vamo facciamo così Due corde Bene Ok ragazzi Olesca Sara che fanno? Quando ci siete No no posso grazie Qua siete dietro che ci buttiamo e perdiamo materiali Ah io ci sono vai Ah no aspetta 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 Devo craftarmi un altro Ciaffo di Arpione Ok Con l'arpione li prendono No No Che mi è finito Guarda Guarda Doro bastardo Ora ci siete Ok Allora rilancio L'arpione li prende i materiali Sì Con il sinistro Lancialo Ok Vi dico io quando lo squale è partito All'attacco Aspetta Aspetta Ma te scendi o no? Sì sì Anche io Ok l'ha attaccato Via via Andate Via 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 Cercare materiali Tutto quello che trovate Questa è pietra Mi sa Sabbia bish Pietra bine O anche sabbia bine Guarda ci sono per fare Tutti i mattoncini Che ci sono proprio Per fare la fornace Per poi lavorare Il ferro grezzo Vi dicendo Oggi occhi all'ossigeno Ci sto Sto controllando Ma guarda ci come salta Tutta la sabbia Ok Avete trovato la targilla Voi ragazzi Scusate Oddio C'è targilla Eh sì Un po' sì Ok Quella ci serve Ho provato cose che adesso Mi fa vedere gli FPS Non so per quale motivo Vabbè Ok Credo Minerale Metallico Si Che non mi fa prendere la sabbia Eh non lo so In che senso C'è ci sono dei cumuletti Di sabbia Da fare C'è non è sabbia Qualunque Non so se Capisco cosa intendo Ho rame Bene Me li ha presi Oh ottimo Tanto rame E poco sisero Ah Affogo No No Eh lo squalo A piede libero Ciao Maledito Maledito Mi vendicherò Mi vendicherò Eh abbiamo preso tutto Sto girando su un po' Le alghe Ve le fate prendere le alghe Io non so come si prendono le alghe Onestamente Basta che ti avvicini alle alghe Te premio Probabilmente Le alghe e quelle alte Ti dice di premere il tasto E Tipo Io ne ho preso Tipo 4 Mi so Allora sono proprio 4 Non me le fa Ci le ho qua Ma non me le fa prendere Per quanto che lì ci sono passato adesso Eh G Oh Ti si è dimenticato qualcosa qua Però Cos'è Ah Prendi Prendi Guarda che l'altro è metallico No ma attaccato lo scuolo Bastardo Vuole quello più grasso Lo sa Quello più cicciotto Ma l'ho detto Zottero Aiutami tu Ma facciamo un'altra esca O lasciamo perdere No lasciamo perdere In realtà mi ce l'abbiamo trovato tutto In tre si fa molto facilmente E' colpa vostra comunque E' comunque colpa vostra Tutti voi mentre io sto tranquillo in America Ma io sto tranquillo Colui è il mio alleato Quindi io sto molto tranquillo Di colui Il problema sarà poi tuo Non mio Allora Riusciamo a fare i mattoncini Tipo Mattone fresco Sì Uno Però qua ce n'è di roba E' un po' più in esterno Non so se me l'avete visto Questo mattone Se è fresco Si deve seccare Col sole E poi dopo Lo possiamo usare Voi avete Della argile Della sabbia Per caso Sì Adesso te le passo Aspetta che sto coltivando Che poi Quanto serviva Per fare la fornace Ah perché poi la fornace Tocca Sbloccarla Giustamente Eccolo qua Allora La sabbia Io ce n'ho due Ok E la tre Perfetto grazie Un altro mattone Te della sabbia G No Aia lo squalo Io un pesce Sapete che però Nella parte di qua Dove guardo io Della zattra Ce n'è di roba Nel fondale Rottami Materiali La Sì È che appena sono inciso Lo squalo Mi ha dato Una morsicata Eh allora A meno che Facciamo scegliere Ragazzi Dobbiamo riandare giù O preferite che ci spostiamo Riferite alla chat Dice a voi Sì a farla voi Boh io devo bere Prima di scendere Adri dice Via 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 Andate via Nilo dice Spostatevi Ma tendenzialmente Mi fiderei di Nilo e di Adri Vabbè Wordhead Bastaro Impasta lo squalo Direttamente Ok Ci spostiamo Quindi Rimaniamo così Ce n'andamo Ce n'andamo Raga Via 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 l'ancora E vai Verso nuove Emozionanti Avventure E ci siamo Incastrati Veramente Cioè così Dove essere Il momento Clou E invece No Meraviglioso Meravigliosa Meraviglioso E poi si è girata Anche la barca Gabbiano 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 Allora vai Allora vai nell'altro angolo Vai nell'altro angolo Ok Proviamo così Ok Secondo me Non funziona Non funziona Io no Ciao Nick No Non funziona Eh niente Dovremmo fare altre reti Tutto ciò Visto Sospa Si merita Traversoe Di cannoli Non E niente E non ci abbiamo Cioè io non c'ho foglie Per Manco io Sono nella No lo squalo No no lo lancio G Attacca Attaccalo Tardo Dai che lo uccidiamo Oh dura morire Dura morire È la fine Niente ragazzi Che sono? Le otto e due Eh chiudiamo dai Andiamo a pappare no? Eh prima che ci pappo la scuola Allora ti aspetta Noi dobbiamo scaricarci Scaricate la roba ragazzi Perché evidentemente Quando lo svilogate Non ve la salva Eh ma ci basta Lo spazio no? No aspetta che ne crafto Un ruolo di scatola Ne servirebbe un qualcosa Più grosso Ragazzi io sono Su quello Ho stato molto Molto chiaro Ho detto ragazzi Io mi faccio i cazzi miei Punto Non posso attaccarlo Non faccio niente io Oh qua c'è un barile bro Questo qua me lo pidi intanto Non si può fare La cazza con la grossa No serve Ma che cardine Sì Vabbè fate un'altra piccola Tanto Eh ma io no Di roba bro Aspetta intanto Qua c'è ne ho una La metra Sì Due Da un po' lì Che infatti Me ne è invece Di su Ciao italian No ragazzi Non ho Gli posso tirare questo? Ok Mi ho tirato Ma perché ma va diretto Sulle piante Non sullo spaventapasseri? Bella domanda Sai? Bella domanda Tanto lì a posto per lo spaventapasseri Ne ne ho manco brutto È strana come cosa È abbastanza strana sta cosa Semmone crudo Non riusciremo mai a A cuocerlo? Nettamente no Lo butto E ci lascio Io riuscirò a fare una lancia intanto Scusa mi serve No Non posso I semi ti servono Semi di anguria In questo momento Non lo so Va bene Lasciarne uno Staccano assieme A questo Prendo io Ok Ah comunque te faccia Potresti tenerti la roba Nell'inventario Guarda se c'è spazio Tre slot Se gli ho liberi Allora ti lascio Il legno La corda E la lancia Corda Quanto ne hai Che ti lascio Il tra C'ho 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 Due Ok vai Lancia Il gancio di plastica Lo rifacciamo Ottimo Eh ma te hai plastica Plastica si ce l'ho Per quanto ti serve Ne ho otto No Guarda In questa scatola qua Esterna ci sta Ah ma ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho posto io Eh a me rimane Vabbè La lancia Ma è quasi tutta rotta Tre assi di legno Vabbè Al massimo te la ricrafti Vabbè Sì sì Tutta roba ricraftabile Bene Sloggata Uno Era due Bene Io salvo Salvo il mondo Mondo salvato Ok Che nome me l'hai salvato Però Non me l'hai chiesto Vabbè Sti cazzi Ora Menù principale Via Oddio Ho visto la La nave La velocità assurda A muoversi Vabbè Bene ragazzi Allora Spero che questa live Vi sia piaciuta Mi raccomando Cicciottini miei Se ne volete altre Scrivetele nella chat E se voluto Condividete la live Intanto guarda World Daddy Che sta mettendo foto Su la sezione Formula 1 Maledetto Allora Ringrazio come sempre Casas Perché sei il marino Della compagnia Grazie mille ragazzi Grazie mille Ringrazio tutti voi in chat Come sempre grazie ai moderatori Noi ci vediamo al prossimo appuntamento E domani Alle 10.30 Quindi 10.30 Del mattino Per andare avanti Su Formula 1 2020 Ok Andiamo avanti ragazzi Con la campagna Con la carriera da scuderia Va bene Buonasera a tutti Buon venerdì Buona cena Bella ragazzi Bella lì Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao